restauri con sorprese è l'ordine del giorno il canale del cerchio è importante scopriamo la differenza facciamo un po di chiarezza sui bolli delle nostre yan timer la tv e la realtà c'è una gran bella differenza affrontiamo il problema ciao a tutti ragazzi buon santo stefano buon natale in ritardo avete visto che anche se il 26 non vi abbiamo abbandonato oggi anche una bella giornata quando noi sta venendo fuori anche un discreto sole freschina ma neanche più di tanto perché non ho trovato neanche gelato stamattina quindi anche se il 26 siamo sempre in compagnia faccio una parentesi non sarà una puntata particolarmente lunga ho scelto quattro mail perché mi sono ho perso un po di tempo persa la parola giusta per leggere tutti i curriculum che sono arrivati ne ho trovati qualcuno di interessante poi tra la settimana prossima e la settimana dopo l'epifania magari contatterò qualche persona però c'è da dire ragazzi chiaramente io faccio questo appello ma non serve a niente perché è soltanto uno sfogo personale io mi sono riguardato il mio video voi sapete che io non guardo non guardo mai i miei vi l'avevo detto questa cosa sono uno dei pochi che non guarda mai il video nemmeno quando esce me lo sono riguardato perché ho detto o mi sono dimenticato di dire qualcosa ma non credo oppure non sono stato chiaro men che meno ma come per il discorso del codice fiscale per l'acquisto del merchandising è successa la medesima cosa per il curriculum cioè ragazzi lo dico perché magari qualcuno vede noi stiamo cercando confermo a me serve un meccanico finito e che abbia una buona esperienza non dico ottima anche se dovrebbe essere ottima con le macchine storiche quindi ripeto per me l'età non è un problema l'ho detto e lo riconfermo quindi lo dico un'altra volta però se mi scrive un ragazzo del 2003 o del 2002 le cose sono due o è un mostro e ha cominciato a lavorare a 11 anni come autodidatta oppure non ha esperienza ma proprio di niente perché ha tre anni in meno del mio adi quindi voglio dire con tutto il bene che gli posso volere io in questo momento non ho bisogno di una persona da crescere ne ho già una che stiamo crescendo l'officina all'officina va aggiunto una persona che sa lavorare ma che abbia dimestichezza a me quelli che hanno lavorato senza offesa e non è un'offesa però ognuno parla per le proprie necessità a me quelli che hanno lavorato 11 anni alla midas non vanno bene per me senza nulla togliere la mia ma è che tu cambi di ammortizzatore i freni pneumatici non mi interessa a me serve una persona che sappia fare le carburazioni che sappia fare le catene delle macchine particolari restauri dei motori aprire i cambi quindi parliamo di un meccanico di non dico alta gamma per me è un meccanico poi ripeto siccome ce ne sono una marea di tipi di meccanici allora è giusto fare un po di distinzioni però io nel video ho parlato molto chiaro lo dico perché mettetevi nei miei panni è bello che qualcuno ti scrive perché vuol dire che c'è interesse io capisco che ci sia fame di lavoro e ci sia una marea di datori di lavoro stronzi quindi nel momento in cui uno trova una persona seria tutti lì però ragazzi io non ho bisogno di un falename o un panettiere per quanto possano essere bravissimi e volenterosi perché non me lo posso permettere in questo momento quindi voglio dire che chi rivede questo messaggio per cortesia basta soltanto come ho detto nell'altro video fate un passo indietro guardatevi bene il video analizzatevi perché il primo giudizio siete voi il primo giudice di voi stessi siete voi stessi quindi basta semplicemente dire sono in grado di fare questo sì no poi ci può essere quello che ti scrive sì in realtà è una balla va bene ma almeno il primo scalino l'abbiamo tolto questo solo per fare una piccola parentesi quindi per quello ho potuto leggere poco però non volevo mancare l'appuntamento con voi vi voglio ricordare il merchandising non è rimasto tantissimo quindi per chi fosse interessato www.gasishop.it no .com non mi ricordo mai comunque lo trovate perché andate su google gasishop lo beccate è .com vero è .com oggi c'è gabri che mi aiuta quindi è .com oppure per gli ordini che volete venire a ritirare di persona ordini chiocciola gasiautomobili.it quindi sono due cose diverse se volete la spedizione gasishop se volete ritirare di persona ordini chiocciola gasiautomobili.it ultima cosa una cosa velocissima aveva detto anche domenica scorsa vi rammento se qualcuno avesse un'abitazione un appartamentino non grandi in affitto nei paesi del bresciano che vanno da villa carcina san virgilio tra ospitaletto e quei posti lì diciamo rodengo saiano di farmi sapere poi vi darò il contatto c'è questa persona che cerca un appartamento in affitto perché purtroppo deve spostarsi per esigenze lavorative quindi non mi ha riscritto naturalmente sono io che lo dico perché magari qualcuno sfugge però se qualcuno avesse la disponibilità e la voglia c'è questa necessità ora partiamo con le nostre notizie e ho scelto quattro temi carini che magari anche easy per santo stefano che possono essere anche bellini allora ciao gasi buone feste mi chiama alessio 30 anni ti seguo bla bla ti faccio i complimenti tanto so che non li legge veniamo a noi dopo aver restaurato da solo tranne la sabbiatura la verniciatura quindi questa è un'autodidatta una vespa 150 sprint veloce del 75 mi sono deciso di passare al livello superiore restaurando un'auto d'epoca inizialmente ero orientato su un adian o due cavalli ma poi ad un raduno di auto d'epoca ho visto una topolino e me ne sono innamorato mi metto allora la ricerca di una topolino c e alla fine ne trovo una gorizia in buone condizioni del 1952 ma cosa più importante per me con targhe documenti originali è bello avere la targhe documenti originali ma non deve essere una prerogativa perché se la prerogativa è quello che leggiamo dopo è meglio avere la macchina ritargata o radiata dalle foto inviate dal proprietario sembrava messa molto bene violino zicano ecco non è non è la stessa cosa perché non parte neanche quindi prima di definirlo un violino diciamo che potrebbe essere discreta allora decide di noleggiare un daily passo lungo chiaramente chi vuole essere sicuro di arrivare in un posto noleggia un daily perché già c'è una fregatura in atto ci manca solo che ho problemi di quanto è il viaggio quindi se volete arrivare daily ed andarla a prendere con mio padre che ancora bestemmia per tutta la strada che gli ho fatto fare sono di foligno in provincia di perugia arrivate sul posto il proprietario mi porta a vedere l'auto che in effetti non sembrava messa male la vernice anche se oramai tutta scolorita non presentava marciumi il motore non era bloccato gli interni anche se da rifare erano accettabili per l'età della macchina andiamo a fare il passaggio di proprietà il giorno stesso la pago 2500 euro e me ne torno a foligno decido per un restauro totale nel mio garage abbastanza attrezzato tornio fresa trapo una colonna pressa eccetera e da lì inizia lo smontaggio e iniziano le sorprese il marciume che da fuori non si vedeva inizia a uscire fuori non appena smonto i sedili qualcuno aveva rivettato sul fondo originale ormai ridotto a un colabrodo due laniere zincate sulle quali avevano saldato a cazzo di cane perfetto le guide dei sedili i sottoporta interni erano completamente marci erano coperti magari dal mochetto dai sedili le pedane si sbriciolavano l'impianto frenante era marcio e ho potuto recuperare solo i cilindretti dei freni dopo un'accurata lavorazione al tornio e sostituzione delle tenute dei pistoncini il telaio era incidentato e ho dovuto raddrizzarlo e saldarlo anche il motore era fuori tolleranza con due bronzine di banco rotte morale della favola il restauro si sta rivelando un enorme lavoro sia dal punto di vista del tempo che da quello economico ma per fortuna che faccio quasi tutto da solo e non mollo e oramai non puoi mollare con questa mail ho voluto raccontare soltanto la mia esperienza ma voglio anche mettere in guardia chi come me si sta avvicinando al mondo dei restauri perché le fregature sono dietro l'angolo e si pagano care se avessi scoperto prima il tuo canale forse avrei valutato meglio l'auto prima di prendere un abbraccio a tutti gli utenti ciao allora più che fregature adesso una macchina del 50 utilitaria vi potete immaginare come è stata tenuta negli anni c'è già quando si prendono le macchine ultra restaurate si troppo possono trovare possono trovare dei problemi pensate a queste io però vi voglio dire una cosa perché vi dico questo per due motivi uno quando mi si chiedono mi fai un preventivo per una macchina che è ferma come questa da una che preventivo posso fare io la guardo come l'hanno vista questi ragazzi magari ne capisco qualcosa in più ma non è che quando vado a vederla smonto i sedili smonto la moquette per guardare gli altri non posso farlo nel box capito cosa voglio dire quindi il preventivo può tranquillamente variare del 50 per cento ma tranquillamente anzi cioè ci sono momenti in cui tipo il duetto bianco è stato un delirio è stata una cosa pazzesca tra l'altro siamo addirittura ad arrivo col duetto bianco quindi con l'anno nuovo sicuramente vedete dei video interessanti però questo vi voglio dire che non è questione di fregatura poi magari questo la sapeva a lunga è questo che vendeva ma magari no quindi questo non mi sentirei di dire fregatura più che altro c'è un altro discorso allora quando si acquista un automobile è brutto dirlo il cuore deve fare da padrone e siamo tutti d'accordo infatti a lui piace questa macchina a me non piace però lui piace questa macchina e quindi è chiaro che fa tutto da solo ci sta mettendo dentro le ore non si contano anche se comunque le ore anche se c'è la passione anche se ti fai lavoro da solo ci devi guardare perché è tempo che potresti spendere per altre cose ma quello è un discorso lato che non c'entra nulla però voglio dire una cosa molte volte si fa questo ragione e questo la gente che quando dico questa cosa la gente non si deve offendere si fa questa ragione perché la gente non vuole spendere allora io non so che cosa valga una topolino c non so neanche se un balestra lungo un balestra corta non è non sono le mie macchine non le voglio fare però quanto vale bella almeno che parte si può provare una macchina così cioè per averla pagata 2500 euro relitto relitto la parola giusta quanto ne vale la pena c'è un conte se uno dice compro un ferrari come il mio un 208 vale 80 mila euro è abbandonato non va in moto e lo pago 30 o un margine per le sorprese no ma se questo la paga 2500 più un viaggio allucinante perché hanno alleggiato il furgone andate tornato ok e la macchina bella per bella non intendo perfetta almeno utilizzabile ne costa 7 8 10 ma non ne vale la pena questo voglio dire in questo caso non ne vale la pena è vero che uno mi dice io la pago 2005 e poi la faccio come voglio io ma lo può fare uno che si fa le cose da solo e ci sono sempre le sorprese perché poi arriva il momento che c'è qualcosa in cui non hai le competenze tipo registrare i freni che voglio vedere quando ci sarà da farlo perché non è una stupidata non è una passeggiata quindi voglio dire valutate un po che cosa vale la macchina parlo delle macchine ferme inutilizzabili perché già le sorprese ci sono per le macchine funzionanti pensate per le macchine ferme chiudo la parentesi andiamo avanti cambiamo discorso che magari questa è una cosa che può riguardare in molti di voi siccome a me piacciono molto i cerchi in lega questo è giusto dirlo ciao amiri non mi dilungo nei complimenti tanto non li legge vero allora come prima auto ho deciso di prendere una e 46 del 2004 320 diesel touring allestimento m va bene tralasciando il motore che non mi piace la e 36 nel 2004 è già restyling quella con i faretti fin di nebbia rotondo di sotto ho scoperto che i cerchioni anteriori style 68 praticamente sono i cerchi mezzo i posteriori le gomme montate però sono tutte quattro 225 45 17 cercando in internet però l'auto esce dalla fabbrica con le posteriori 245 40 17 è vero la mia domanda è dato che sto montando delle gomme più strette al posteriore c'è qualche rischio per la sicurezza e o affidabilità intenuta è normale che per un auto standard non è un'auto ad alte prestazioni bmw abbia deciso di differenziare le misure tra anteriore e posteriore faccio presente che a libretto sono ammesse entrambe le misure citate prima quindi legalmente non ci dovrebbero essere problemi spero riuscire a darmi una risposta un caro abbraccio un saluto a tutti buon natale allora questo non è un problema questa è una cosa che viene fuori in parecchie su parecchie case costruttive soprattutto sulle macchine anzi praticamente solo sulle macchine a trazione posteriore allora innanzitutto io vado a prendere un ai 46 320 diesel ma bmw difficilmente fa differenze da un 330 c però se vuoi comprare un 330 c dici cazzo è giusto che abbia le 2 45 40 al posteriore la macchina ha 231 cavalli questa ne ha 150 perfetto ma bmw vuole cadere in piedi è una trazione posteriore quindi le stesse normative e le stesse concessioni quasi tutte delle misure delle gomme del 330 ci ce le dà anche per il 320 diesel voi pensate che avevo fatto una prova del 320 si era un 320 era già un 2002 di cilindrata un 170 cavalli un ci benzina e questa macchina aveva i 18 già omologati quindi ha le stesse praticamente gli stessi pneumatici che monta il 330 identici eppure tra il 2000 e il 3000 c'è una bella differenza ma monta le stesse identiche gomme allora loro non fanno differenza perché questo ce l'ha anche la mia m3 allora io ho quattro cerchi della mia m3 originali su cui sono montati gli antineve nuovi mai usati me li ha dati il precedente proprietario mai montati e mai usati sulla strada nuovi immacolati sono da 18 polli la macchina esce con i 19 la mia m3 per farvi un esempio lui è andato a comprare in BMW gli originali da 18 pollici ma montando le 2.45 su tutte e quattro le ruote lui è andato a comprare i cerchi col canale uguale sono tutti e quattro da 8 pollici ma se io andassi a prendere i cerchi da 18 pollici per la m3 cioè quindi quello con cui usciva di serie erano differenziati perché andrebbero montate le gomme differenziate allora loro sul libretto non ti possono scrivere in teoria dovrebbero dirtelo non ti possono scrivere guarda che le 2.25 vanno solo col canale da 7.5 cioè pensate a quanti intenditori forse adesso ma nel 2004 c'erano di una cosa del genere nessuno quindi loro hanno detto ascoltami la 2.25 è tollerata per un cerchio col canale da 8.5 facciamogliela montare per me è un errore allora diciamo che sul retrotreno è molto spanciata la gomma cioè è una cosa che a me non piace tipo le autotuning tedesche non così tanto però secondo me una gomma troppo stretta su un canale troppo largo c'è il rischio che ti scavalli dal cerchio nelle curve pesanti non al retrotreno probabilmente non a questi livelli perché BMW vuole cadere in piedi ma se voi montate le 2.25 sul canale da 7.5 calzano violino perfette le montate sul canale da 8.5 la gomma si tira voi la differenza tra davanti e dietro la vedete sembra che dietro avete montato una gomma più stretta perché viene tirata ai lati la gomma si abbassa leggermente sta malissimo quindi è giusto montare le 2.45 e 40 altrimenti esistono dei cerchi quindi non quelli dell'allestimento di serie perché se tu compri l'optional con i cerchi da 17 in questo caso o i 18 sulle M3 originali perché la M il 320M esce con i cerchi da 17 originali quindi è concepita per le gomme con il canale differente e anche la Mercedes è uguale medesima quindi Jaguar identiche tutte le macchine a trazione posteriore con il pacchetto con quei cerchi sono differenziati poi se io aftermarket mi compro 4 cerchi da 17 perché voglio montare le gomme uguali prendetele col canale uguale questa è una cosa molto importante per me è importantissima spero di essere stato abbastanza chiaro allora cambiamo genere ciao Gabriele mi chiamo Massimiliano e ti saluto dalla provincia di Treviso vino buono ti apprezzo e ti ringrazio per i contenuti che porti una settimana oggi vorrei parlare del tema delle auto tra i 20 e i 30 anni qualche giorno fa leggevo su internet che dal 1 gennaio 2022 in Lombardia le auto che hanno tra i 20 e i 29 anni non pagheranno il bollo e da questo punto volevo fare una riflessione mi chiedo questa normativa quale durata può avere intendo quanti anni queste auto avranno la possibilità di essere utilizzate su strada senza limitazioni per le emissioni e la possibilità che essa possa essere applicata anche ad altre regioni d'Italia guardando gli annunci di auto usate e video su internet ho notato diversi modelli di auto che negli ultimi anni hanno avuto una crescita di interesse da parte di appassionati e un aumento di prezzi dati dal numero in diminuzione di esemplari in buone condizioni e dal numero di acquisto delle auto sia che essero siano conservate o anche restaurate qualche anno fa avevo preso in considerazione l'acquisto di un'auto del segmento C degli anni 90 in allestimento sportivo e volevo chiederti se hai guidato se hai guidato o anche svolto attività di manutenzione su questi modelli per eventuali problemi specifici meccanici o elettrici che hai riscontrato nel dettaglio le auto sono Ford Escort RS 2000 A mio parere auto che hanno passato i 20 anni e possono avere un certo valore storico e anche affettivo è giusto che vengano conservate con cura e utilizzate saltuariamente in modo da evitare che nel possibile eventuali problemi anche costosi e infine secondo me le auto Yantimer e le auto storiche le distinguerei dalle auto vecchie di basso valore utilizzate per un tragitto casa-lavoro per esempio grazie a tutti e buona festività grazie per i contenuti che portate allora partiamo dal fondo la frase che le macchine storiche vanno usate poco è la mia politica quindi non posso che sposare parto dal fondo e poi salgo quindi non posso che sposarla per me le auto vanno preservate infatti è questo che dovrebbero capire secondo me perché dopo ci troviamo loro che cosa fanno danno agevolazioni a tutti a cani e porci poi si accorgono che ha fatto una stronzata quando ci sono delle restrizioni tagliano e ci prendono dentro ai veri appassionati o a chi ha veramente delle auto da preservare quindi è come sarebbe come una punizione se vogliamo vedere è come a scuola due si comportano male benissimo c'è la classe in punizione l'hanno preso nel culo tutti gli altri con la sabbia quindi il problema è questo fondamentalmente è questo allora lui ha citato diverse macchine che a me piacciono molto allora la Escort RS 2016 valvole è una macchina che non è stata bistrattata di più ancora proprio era stata ecclissata completamente dalla Cosworth questa la prendevi a due soldi oggi vai a trovarne una bella ed è un cannone quella macchina qua per il motore che è non è bellissima come linea ma va veramente bene la Golf GT 2016 valvole per essere 2000 immagino che parli di Golf terza serie io consiglierei di prendere finché si trovano ancora cifre umane il 20 years quindi il ventesimo anniversario con i cerchi da 16 l'interno con i colori diversi il pomello dell'ha fatto in maniera diversa quindi spendete qualche soldino in più e prendete quella il 2000 da 150 cavalli non è un aereo avete più sensazioni sul motore dell'RS non è che va da piano è più una macchina d'autostrada quindi come emozioni preferisco la prima la terza per dirvi quanto sono obiettivo a me non piacciono le auto francesi ma una macchina che prenderei è la 306 rally io l'ho provata bene la 167 cavalli ce l'avevo un mio carissimo amico con cui purtroppo abbiamo litigato in giovane età ma uscivamo praticamente tutti gli weekend e non vi dico perché io non bevevo quasi niente lui invece era uno che ci dava dentro la guidavo praticamente sempre io quando tornavamo da Lantares andavamo a Lantares che era d'Albino Cazzaniga quei posti di Vertova e tornavamo verso Milano io ho fatto con quella macchina lì avrò fatto sto basso 2-3 mila chilometri ma proprio sto basso color oro 6 marce una macchina fantastica un motore bellissimo questa è una macchina tra le 3 da prendere bendato se la trovate ecco magari è più blasolata la 106 la 106 è una scatola da sardine la 306 è comunque molto agile con un'ottima rapportatura di cambio e un motore che non si rompe mai quindi e ve lo dice uno che non ama le auto francesi quella è una macchina da prendere bianca o color oro bellissima Astra 2000 GSI 16 valvole non mi fa impazzire a me non fa impazzire il cambio delle Opel cioè è indistruttibile ma si impunta è sempre stato così non è che si impunta ho sbagliato a parlare è contrastato quindi non lo adoro sotto quel punto di vista beh la 1916 valvole rispetto a tutte le altre paga lo scotto secondo me di una costruzione un po' più vecchia perché la 1916 valvole adesso non so se lui parla della Shamad o della Berlina però ha 137 ha motore della Clio però sulla 19 rende un pochino meno a me non fa impazzire la 19 è bellina mi piace soprattutto la 2 porte ecco quello mi piace un po' di più però secondo me rispetto alle altre ha meno motore diciamo che anche forse l'asta mi sembra che avesse 150 o 155 cavalli però se la poteva giocare un po' però secondo me attaccato alla 19 c'era un pochino meno rispetto alle altre macchine questo è un parere personale poi però sono tutte macchine interessanti carine ecco una cosa importantissima naturalmente tu hai citato 5 auto io ti ho detto quello che preferisco ripeto quello che dico sempre la cosa più importante sono le condizioni mi spiego meglio se Gasi vi ha detto di prendermi 1306 non è che io sono il messia quindi non è che dovete comprare un rottame perché ve l'ho detto se trovate una bellissima 19 optate per la 19 o per l'asta assolutamente io parlo a parità di bellezza Golf ne hanno vendute col secchio 306 sono già molto più rare le escort per me sono andate tutte o demolite facendo i numeri o nel ferro quindi anche quella è una macchina più rara valutate bene che cosa trovate però sono 5 macchine interessanti questo è quello che ti voglio dire allora lui mi fa una domanda importante allora il fatto del pagare il bollo chiariamo un attimino il discorso del bollo perché la media era cominciata con quello allora parliamo della regione Lombardia le altre regioni hanno un discorso a parte che anche questo è sbagliato perché se siamo uno stato la regione non può decidere autonomamente una tassa statale quindi secondo me non è giusto e vivo in Lombardia quindi comunque questo è il mio punto di vista in Lombardia prima del novembre 2014 quindi prima della legge di stabilità di Renzi noi avevamo l'agevolazione automatica per le automobili che avevano compiuto vent'anni quindi vent'anni quindi qualsiasi automobile al compimento del ventesimo anno di età che sia una 500 Ed una Campagnola una Ferrari o una Punto o una Uno a vent'anni il bollo non lo pagava più senza iscriversi a nulla molto bene dopo è arrivata chiaramente loro si sono accorti dopo che cosa ha fatto legge di stabilità martellata totale bolli ovunque Asi si è difesa ah ecco un'altra cosa e se sempre prima del novembre 2014 se la macchina era iscritta Asi chiaramente in Lombardia erano molto meno quelle iscritte Asi perché non c'erano problemi di agevolazione ma se la macchina era iscritta Asi il bollo era ridotto scusatemi il passaggio di proprietà era ridotto quindi se la macchina era iscritta Asi e aveva dai 20 ai 30 anni pagava il passaggio ridotto come lo pagate oggi per una macchina dai 30 anni in su quindi circa 200 euro quindi bastava esibire il tesserino dell'Asi dell'iscrizione dell'Asi che all'epoca era plastificato oppure era una cartolina orizzontale il passaggio veniva automaticamente a volte anche pagavate un quinto perché pensate che faccio un esempio un M5 con 340 cavalli di passaggio paga 1400 euro se iscritta Asi ne pagava 200 quindi c'era un risparmio pazzesco soprattutto anche per il fuori regione quindi anche fuori regione avevate in tutte le altre regioni questa agevolazione è stata tolta nel 2014 e non è più stata messa quindi oggi per pagare un passaggio agevolato dovete andare dal compimento del trentesimo anno in poi per avere il passaggio agevolato passaggio di proprietà per quanto riguarda il bollo prima come vi ho detto fino al 2014 era così poi è stata introdotta questa ammazzata qui tutti hanno pagato il bollo quasi tutti dopodiché Asi Mafo Orca Disfa sono riuscite ad arrivare a una quadra le macchine scritte Asi in Lombardia avevano un'esenzione del 100% nelle altre regioni dipende alcune hanno mantenuto il 100% altre il 50% tipo il Veneto me ne viene in mente una o il Piemonte cosa è successo adesso? due mesi fa avevamo fatto forse un mesetto fa avevamo fatto una puntata dicendo che c'era già un altro emendamento volevano rimettere ancora il bollo ci provano sempre ogni tot di anni saltano fuori però non è passata sta cosa in Lombardia praticamente abbiamo mantenuto la medesima esenzione di prima e anche nelle ragioni è tutto rimasto come prima se ha aggiunto l'ACI storico che ha creato ha redatto una lista di macchine in cui basta essere iscritti all'ACI storico che costa molto meno che iscriversi a un club e tutto il resto la vostra macchina deve rientrare in questa lista e avete l'agevolazione del bollo senza avere il CRS applicato sul libretto perché dal primo di gennaio quindi da dopo domani tra 3-4 giorni 5-6 per avere l'agevolazione del bollo anche in Lombardia dovete avere il CRS riportato sul libretto ok e quel CRS li segue la macchina quindi se voi avete il CRS applicato e vendete la macchina a un'altra persona lui non avrà bisogno di cambiare il CRS segue la macchina è come detto volgarmente è come l'installazione di un impianto GPL o un gancio traino segue la macchina punto basta poi uno rinnoverà l'iscrizione al suo club per quanto riguarda i motivi assicurativi ma non per quanto riguarda il bollo quindi questa lista di AC storico serve in Lombardia per snellire io preferisco comunque scrivere la macchina all'ase perché ho comunque il mio CRS sul libretto lo pago una volta però mi permette anche di aiutarmi a fini assicurativi in caso di sinistri per la circolazione quindi io lo preferisco comunque però per chi avesse una macchina che non usa o magari tiene ferma e rientra nella lista chiusa per lui potrebbe essere meglio si iscrive ad AC storico senza CRS se la sua macchina è nella lista chiusa che è consultabile sul loro sito avete l'agevolazione questo è quanto per il fatto di non poter circolare ragazzi il comune di Milano e automobili nella stessa frase non ci possono stare quindi quello non c'entra nulla il comune di Milano ad ottobre del 2022 gli euro 2 benzina sono fermi e hanno 25 ingressi annuali oltre i sabati e le domeniche diciamo che a me non mi sfiora e credo che anche a tanti altri appassionati perché la macchina d'epoca la usano nel weekend se la usano quindi questo è anche un po' un dramma di queste cose perché dopo loro annusano gli affari i nostri capi chiamiamoli capi se le macchine d'epoca fossero usate per quello che sono questi problemi noi non li avremmo solo che invece la macchina d'epoca la usa tutti i giorni in sostituzione alla macchina normale come escamotage per risparmiare magari bolli e assicurazioni questo non è del tutto corretto quindi quando arrivano queste mazzate lasciando perdere da chi arrivano sono fondamentalmente sbagliate ma non è che arrivano da sole loro fanno dei calcoli delle statistiche e dopo ci vanno di mezzo tutti adesso grazie al cielo con questa cosa di ACI storico e delle iscrizioni ACI si sono mantenute le agevolazioni come erano io sono per la macchina d'epoca per utilizzarla saltuariamente quindi il fatto di circolare a me prende e abito a Monza mi prende veramente in senso proprio piccolo 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 ora ultima mail la tv ci propone spesso dei format dove vengono acquistate auto yantimer per essere rimesse a nuovo o comunque per dargli una seconda vita quello che mi colpisce è che nella maggior parte dei casi il prezzo d'acquisto è ridicolo ogni problema si ripara facilmente e poi per qualsiasi pezzo di ricambio si trova in un negozio specializzato fornito come un magazzino da fare invidia alla BMW o un meccanico in grado di sistemarle insomma tutto sembra facile e a poco prezzo seguendo le tue rubriche mi sembra invece che la realtà sia ben diversa le auto si pagano le riparazioni non sono gratis e i ricambi sono difficili o impossibili da trovare non credi che queste trasmissioni abbiano contribuito al boom dell'ayantimer facendo credere che tutto sia semplice alla parata di tutti cosa ne pensi un saluto Michele io la penso proprio così e penso anche che sì con il fai da te va bene c'è un bel a parte che possono farlo solo con certe macchine ma è vero c'è questo come far capire questa voglia di mettersi dietro ma il fai da te alla fine del lavoro a differenza del meccanico che invece tu lo paghi quando vedi il codice cazzo cosa mi è costata sta macchina il fai da te non funziona così perché lì c'è un pezzettino ogni volta che tu fai la macchina ed è difficile rendersi conto delle ore che uno ci spende dietro e dei soldi perché anche il fai da te ha dei costi quindi sarebbe il caso di prendere un bel foglio di carta a macchina finita fare la lista delle ore delle cose che ho speso e dire ma che me l'ha fatto fare molte volte sulle macchine però può capitare ragazzi questa cosa sì questa cosa della televisione può aver aiutato parecchio è vero sono d'accordo ma più che altro ha alimentato perché i collezionisti e gli amatori di macchine d'epoca ci sono sempre stati prima delle fiere prima delle trasmissioni tv prima dell'avvento delle young time quindi ci sono sempre stati diciamo le young time sono arrivate perché si sposta l'età dell'utilizzatore cosa voglio dire voi ci fate caso che le macchine troppo d'epoca chiamano così quelle che non mi rappresentano sono in una fase costante per non dire calante le macchine anteguerra non le compra praticamente più nessuno perché gli amatori e gli utilizzatori chiamiamoli così di macchine del genere appartengono a un'altra fascia d'età che in molti casi o invecchiano o non ci sono più quindi il mondo l'interesse delle macchine d'epoca si sposta cioè si sta non è fermo è focalizzato si sposta l'età delle macchine va avanti quindi voi considerate che hanno 20 anni macchine del 2001 non sono macchine d'epoca eppure dieci anni fa la delta aveva 20 anni perché era del 91 è la stessa cosa si sta spostando lentamente perché si sposta l'età dell'utilizzatore quindi di conseguenza dobbiamo farcene una ragione quando uno si mette da parte sempre la macchina dicendo vedrai che è un domani ma le macchine degli anni 50-60 quello che dovevano dire l'hanno detto è difficile che possa esplodere da solo un boom di una macchina che ha 60-70 anni ragazzi molto difficile perché la nicchia di appassionati di quella macchina è sempre meno e se è sempre meno chiaramente il prezzo dipende quanto uno ha bisogno di vendere perché se uno ha bisogno di vendere la lascia lì ci prova ma se uno ha bisogno di vendere che cosa fa abbassa il prezzo gli altri si vedono venduto la macchina che costa meno quindi di conseguenza o si adattano o se no rimangono lì ecco perché il prezzo cala contrario se io ho una macchina che è richiesta il prezzo sale poi posso non venderla quando mi dicono che alcune macchine non si vendono sono chiacchiere perché molti di voi non sono in questo in questo mondo ma io vedo macchine vedo delta tema 75 jaguar maserati che passano di mano a cifre che neanche si immagino e le comprano quindi la bolla speculativa chiamiamola così doveva esplodere già nel 2015 quando io ho fatto autoclassica nel 2015 ho portato una delta ho portato un hf turbo bianca ho fatto vedere le foto un hf turbo bianca un integrale 16 valvole trasformata ad evoluzione era una macchina da corsa lo stand accanto al mio mi ha detto nel 2015 e cazzo le delta sono su di brutto ma vedrai che questa bolla fra poco esplode ok dal 2015 non vi dico che sono raddoppiate ma sono circa l'80% in più quindi poi è chiaro le cose non dureranno in eterno si ridimensioneranno ma da lì a dire che una bolla esplode purtroppo molte volte l'invidia parla e invece magari bisognerebbe stare un attimino così quindi vi do un abbraccio grande ragazzi spero di non avervi annoiato buon santo Stefano e alla prossima ciao 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 ciao